Ci troviamo nelle macchie delle coserie, siamo a cospetto di questa maestosa pianta di limoni biologici che sono naturali al 100% e si apprestano per preparare ottimi limoncelli perché hanno questa caratteristica che hanno nella corteccia, essenze molto forti. Sono piccoline ma sono veramente di alta qualità, quindi sapori molto molto forti. Tra l'altro si è scoperto che consumare limoni in maniera, come si dice, abitudinaria è un grande toccasano per la salute in quanto si è scoperto che riescono a contrastare le formazioni tumorali. Quindi aiutano molto il corpo a non farlo diventare acido, quindi creare una barriera contro le possibili formazioni tumorali cellulare. Io su questa cosa ne ho già parlato, penso che ci sia un po' di verità. Ovviamente le cose vanno sempre ragionate in maniera più completa, ma sicuramente i limoni male non fanno. Bene, vi saluto dalle macchie delle coserie con questo albero di Natale, se potrebbe dire, di limoni biologici 100%. Tra l'altro questi limoni mantengono il succo fino addirittura ad agosto, dico. L'unica pianta in circolazione che mantiene tanti tanti mesi.